Prima voglio ringraziare Dio per questo giorno che è arrivato il mio primo gol in questa stagione, anche mio compagno che mi ha evitato in questo momento che tutto la cosa è andato male per me, ma per me sono molto contento che ogni volta che il mio squadro ha bisogno di me, quando entri in campo vuoi fare qualcosa, anche in questo momento che noi abbiamo bisogno di vincere ogni partita, sono molto contento che ho entrato e ho fatto gol per aiutare il mio squadro per portare tre punti a casa. Ecco Musa, anche perché questa era una partita davvero delicata, difficile, perché come hai detto tu l'Atalanta deve vincerle tutte perché è padrona del suo destino, deve vincerle per continuare ad alimentare questi sogni che piano piano si andranno a concretizzare. Sì, in questo momento noi deve cercare di continuare questa forma che abbiamo adesso, anche per la prossima partita che è finale, per andare tutto, per fare il nostro gioco, per portare a Coppa Bergamo. Adesso vediamo come andavi, ma io so che io e il mio compagno sono pronti per fare il nostro gioco. Ecco Musa, non è praticamente ancora finita la partita con il Genoa, però la testa è già a mercoledì all'Olimpico, alla partita con la Lazio. Sì, come dicevi Misti è sempre, ogni partita una volta, adesso erano Genova, adesso è passato, adesso pensavo a quello di finale contro Roma, dopo quello pensavo... A Roma contro la Lazio? Sì, contro la Lazio, dopo quello pensavo a Juve, dopo Juve pensavo a Sassuolo, adesso ogni partita una volta, ogni partita così faccio il nostro gioco per vincere. Grazie a tutti.